Ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Kingdom Hearts Final Mix Oggi, prima di continuare in un nuovo mondo, vorrei andare a vedere quello che... Quella che dovrebbe essere una nuova sfida Al Monte Olimpo, c'era stato detto, che ce n'era una nuova Andiamo, vediamo un po' Adesso ormai abbiamo capito che ste sfide... Le famo E poi se continua Vai Anche perché suppongo ci sia la serratura anche qui, quindi... Toccherà a trovare il modo di chiuderla, no? E secondo me magari è facendo ste sfide Parteciperai, non vedo l'ora di competere con te Oddio, questa è nuova sta frase, eh Vai, vediamo un po' sta sfida com'è, se è fattibile o meno Io come al solito ci provo, non sfido Tu che mi dici? Conosci le regole? Ah, Coppa Pegaso Allora, teoricamente dobbiamo fare scelta avversario Che cos'è scelta avversario? Ah, li puoi scegliere No, vabbè, non mi interessa Coppa Pegaso Normale Vediamo un po' com'è Qua è di notte Ok Aia Bro, li sto lisciando Li liscio tutti Ok Dove è andato? Ah no, non era lui? Dai, su Ok Eh, un colpetto l'abbiamo preso Però Va bene così Porco tu i danni che ho preso Ma guarda i danni che ho preso Ne devo cura' Perché ho preso tutti sti danni? Mi sono esplosito i barilli addosso Vabbè Tre Oh no Lasciami stare Lasciami stare Mi stai inseguendo a me Ecco Aia La fammolo fuori Ok Grande Che mi hai curato Tu sì che ne sai Ecco Aspetta Questo nome Ne carica No? Sì Tardi Ah, invece no Va bene Va bene Ce siamo Ce siamo Sul pezzo Ma dobbiamo stare attenti Perché sti barilli Con questo fatto che ti esplodono addosso Te levano un sacco di vita Ah, dovremmo andare a vedere pure i cuccioli Che abbiamo recuperato Vabbè, quello magari ci andiamo in un altro momento Eh, c'è il paperino che sta a mezzo a morire Se deve curare Se no, lo curo io Non è vero Non lo curerò mai Lasciami stare Aia No, no, no Non farmi male Eh, paperino è andato Non vedo nulla Che cazzo ho preso Tedano No No, pure Pippo è andato Vabbè, ce la faccio Non è vero Non ce la faccio Oh, non mi sputa Ok Aia Ce la famo, ce la famo Ok Ok Ok, urass Ma questi hanno un botto di vita Fra Non lo so come si fa Ah, no Non è vero Erano altri Allora, mi so Vabbè E' più scemi questi GG Mmm, brutti Qua sfrutterà tutto Eccoci Si era buggato Mi sa E' vero che io C'ho la schivata Che ho quadrato Oh, madonna mia Ma via Come favo Devo stare le magie No Che culo Ok, un andato Aiuto Eh, non potrò fa nulla Eh, va bene Perfetto Dai, è rimasto solo lui Aia Facile Ma se abbiamo vinto No, ce n'è Eh Perché contro di loro Oh, no Questi mi rompono il culo Oh, che cosa mi lancia Lei Oh Ma è un ca... Grande Aio Ma da ca... Fa fuori lei Secondo me Ma no Ma no Ma i miei sono morti Oh Ma è difficile questo No, no, no Nell'angolo Oh, non mi lancia la roba Tu Aia Ma i miei compagni Possono Fare qualcosa E rialzarsi Devo Ma lei che si è ripresa La vita No, no Vabbè Ci abbiamo provato E La riproviamo in un altro momento Ma no Non c'ho voglia Voglio andare a vedere un altro mondo Ah, giusto Da qua Se lo fa Vabbè Vabbè La riproviamo in un altro momento E magari siamo pure un pochino più potenti Perché arriva alla finale Ce sta Poi loro due Non è facilissimo Dovrei Rialzarli I miei Quando morono Ma Non c'ho voglia Ma io esattamente adesso qui Come ci vado Devo ripassare Per di qua O posso andare da qua Proviamo da qua Magari ci riproviamo alla fine dell'episodio Vediamo Ma scusa Warp Perché lo devo rifà Ah, eh Eh no ma Mi sa che mese mangia Eh no Eh, mi sa che sì Mmm Mmm Mi sa che No, la telecamera Bro Mamma mia Vediamo Vabbè posso farlo Perfetto Sti cosi so Vabbè ma non attaccano Ma questa roba si rompe No E mo Non lo so che mondo c'è sta Secondo me quello lì Con capitano uncino Vabbè Vabbè non ho preso un cazzo Che è quello Che ho distrutto Però Vediamo Che roba è? Atlantica Bene scendiamo Voi due siete pronti? Scendere Ma qui c'è solo acqua Affogheremo Non ti preoccupare Fidati di me e della mia magia Oddio forse torna utile Paperino Sarebbe incredibile Ah Speriamo non sia irreversibile Ma cara ma lui è diventato un po' pollico Ah la sirenetta Giusto No paretto Parapippo Una tartaruga Perchè è incazzato Paperino Non lo so C'è qualcosa di dritto Con loro Ah 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 Cosa vuoi dire? Hmm Si sembra Un po' differente Donde sei? Ah 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 Siamo da un po' Far away E non stiamo davvero A queste luci Ah 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 Oh Sì In questo caso Sebastian Può mostrare Come si spaventiamo Qui Ariel King Triton Non sarà così Oh Non ti preoccupare Allora ragazzi Ora vi insegnerò Come si nuota da queste parti Usa la levetta sinistra Per nuotare Cerchio per salire Quadrato per immergerti Rilascia i tasti Per fermarti Ok Allena di conflander Cerca di accapparlo Bene comincia Vabbè Mi sembra abbastanza semplice Così sale Così scende Abbastanza Per fortuna è abbastanza semplice Cioè potevano riuscirla a complicare Dove è andato No non da quella Ah torna indietro Ma dove stai Ah eccolo là E' abbastanza semplice Ma devo farla all'infinito O finirà questa cosa Dove sta E' andato Ah Ah eccolo Beh basta Buon lavoro No Ora Andiamo A Sebastien Che so Tipo meduse E quindi Io che faccio Mavoretto Ma lui va Uno all'ora E io come Come combatto Non posso combattere Come Gli è meno A queste Attacca Ah no Ce l'ho Il keyblade Quindi Finire Godo Aspetta Se la si colpisce Forse si apre Ah per salvare Ok Quelle creature Ci hanno inseguito Fin qui O no Forse quei mostri Sono diretti a palazzo E' meglio che torniamo subito lì Ma e se ne incontriamo altri Vi prego Aiutateci Venite al palazzo con noi Siccome è facile perdersi Seguite i segnali A tridente Divinti sulle rocce Se seguite i segnali Non vi perderete Bene Muoviamoci Ah Ehm Vabbè come al solito Fra Paperino a casa Mi dispiace Ma Tanto salviamo Allora Segnali a tridente Ma se io volessi andare qua Invece Che da prima No 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 Ho sbagliato Non volevo Atlantica Mi sa che ci porta comunque Dalla stessa parte Sì Esattamente Solo che sbucavi Da un'altra parte Eh Bello grande Sto posto No 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 Non gli fate male a lei Lei che fa Magie Ma perché salgo Per questa cosa qui Ah non è facilissimo Effettivamente Con i comandi Cioè vedi Perché questi si abbassano Non fanno come Ok Cosa Aiuto Ok Ma io avevo visto Che qui c'era una Eccola Eh ovviamente Ce sono loro Ma la posso aprire no? Ma basta Ma quanto respawno No Ora respawno Un'altra volta Magari con le magie Che magie Ok Eh Ah buono Ah sono tipi di cosi Perfetto Si è richiusa Questa pure? Questa si apre invece Mi dice Eh però devo scendere Un po' di più Eh Ok Buono Ma non penso Se possano aprire più volte Ma questa non si apre Servirà di nuovo la magia Pure per quella Ok Prova Come che se saliva Con c'è Beh Che questi in due Non riescono a farne fuori uno Ok Ancora? Ma non si apre Ah perché ero in combattimento Quindi quelle così bianche Si aprono col pendolo Quell'altra con la magia Ecco tipo qui No questa è quella che abbiamo usato prima Qua sotto che ci sta C'è un passaggio qua Dove ci porta Oddio Aspetta Non voglio Lasciare dietro roba però Quelli sono da aprire Ci sono delle conchiglie da aprirgli Conchiglie vostre Che insomma Quello che è Però che palle Sono presidiate tutte Oh Dove c'è Ok Ah no Ora pippo Assurdo Cottage Dai Questa pure Dai Elisir Quindi noi eravamo scesi lì Ah beh Infatti ti dice Descendo Ok E qua che c'è Ce sono mille passaggi Fra Ok Oh Questa troppo Seguiamo sti Sti segnali Vediamo un po' Questo ci porterà Mi dice D'andare lì Io vado qua No Pure questi Sott'acqua No Oh Oh Dove sono andato Dove sono andato Ok Non è andato Chi mi ha curato Sarà stata Ariel Perché non la pia sta vita Oh Allora E questo Dove è andato Ma Però 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 Sai Una rottura di palle Me ne vado E ti lascio qui Sì Ah Mi hai ributtato su Oh Gesù Allora Ce la facciamo Ce la facciamo Dai Scusa Domandina No Secondo me Mi ributta su Andando di là Andiamo qua Vai No 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 Non volevo Attaccarlo Mi sa che ci potevo interagire Perché attacco subito io Perché ho sto problema Ma Levate Pippo Guarda Vedi c'è andando a su Sì ma non vedo dove Canyon Sommerso Oddio Di nuovo Questi Di nuovo Ovviamente riesco a prendere danno pure da loro Allucinante Dai fammi aprire qui No non si è Ma questa con la magia va fatta Eh certo C'è Pippo e mezzo Ah no non va col fuoco Ok non mi prende la cosa però E ritorniamo su Lì c'è un'altra Vabbè spona di tutte e di più Che cazzo mi pare i colpi Oh Ah no mi sa che io gli ho parato il suo in realtà Oddio Pippo è allucinante Oh è fortissimo Quanti sono questi Un colpo gli entro Porca troio Finiti Bene Bene Allora immagino che bisogna andare Di qua Tieno Ogni due metri Ma non è un problema Ma non è un problema per noi Scusami Che cos'è questo? È incassato nel buco E non si muove Come si potrà togliere Da sotto O forse con una magia Tipo questa No però No 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 Vabbè Vai Qua dovrebbe essere safe Mega pozione Questi si possono aprire No Non vedo Questo si può aprire Cottage Altro Questo Pagina strappata Un'altra Non so quante ce ne so Mi sa una per mondo Forse E quindi Oh Ho sbagliato E quindi E questo E questo Un barile Cosa è Però non sto capendo E quindi che devo fare Mi dice di andare su Ma se non ci posso andare più Così E il punto è Posso ritornare indietro? Sì Ah no ma perché Non dovevo andare là Devo andare qua io Per andare al palazzo Questi sono nuovi Questi li odio Questi mi danno proprio fastidio Dei nemici Ok Ok Ma c'è un altro Finiti? Allora la vedo una con chi Questa lo posso fare? No Ma vediamo Se la logica Ok Quindi va a colore Scheggia Scheggia Mitril Eh Questo che cos'è? Niente Eh proseguiamo Alla Alla Ok Ci stanno inseguendo Ma perché non li facciamo fuori E se li stanno a porta dietro Ah ecco perché Ce para il culo lui Dopo che ho i miei tritoni Non tolererò queste creature In questo palazzo Padre? Oh Ariel Quando sarai ascoltando Inoltre? Strani creature che scavano fuori Tipo noi Ecco, guarda Tu scavi prima del regno delle sede Cosa? 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 Il King Triton E chi sono? Ci hanno aiutato a combattere queste creature Non sembrava familiar Siamo da un occhio molto vicino Vabbè Sì 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 È Sì 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 Posso targetta lui? Posso salvare qua però? Che non è male Non so che cosa devo fare Questa c'è sfuggita Buono Ce ne sono altre? Sì, anche questa Torniamo indietro, non lo so Vieni nel mio rifugio Voglio mostrarti una cosa Guarda, lo vedi? Il mio rifugio è lì Sì, lo so, l'abbiamo già incontrato prima Ma? E lui? Non dovevo farlo Vabbè No, no, no Non mi fate combattere, vai Già me li so fatti quelli Guarda che cose meravigliose E io e Flander abbiamo trovato Credo provengano tutti dal mondo esterno Un giorno voglio uscire da questo mondo marino Voglio vedere altri mondi Ti sembra strano? No, affatto Anch'io lo volevo un tempo Un tempo? Cioè lo voglio ancora? Perché non cerchiamo la serratura? Ma tuo padre ha detto Ah, lui mi tratta sempre come una bambina Non mi lascia mai fare niente Perché proprio non mi capisce Dove sta quella guardia? L'ho vista Che c'è stava a spiare C'è un pesce enorme che nuota controcorrente Ma ha paura di quegli strani esseri Che gli nuotano intorno Quindi se li schiacciamo Il pesce giocherà con noi Se ti aggrappi a lui Ti porterà da qualche parte Capito Su, continua ad essere chiuso Quindi non penso ci sia modo di uscire là Vabbè, tocca far fuori i nemici Oh oh Perché dici così? Your day is coming Boss fight a lei? Probabile Cioè è probabile Sono tutti i boss fight Quindi sì Porco tu quanto è grosso questo No L'avevo parato capo Come va Che c'è l'ho L'ho Che c'è l'ho C'è ancora lui No, mi sono spawnati pure l'art Secondo me non toccava passare Vabbè ormai tocca fallo Slot oggetti Non ho letto Scompari troppo in fretta quando fai il livello Non riesco a leggere mai che cosa devo far Dov'è? Eccolo Proviamo un po' Bro Non ci sta portando da nessuna parte Ha detto una bugia Forse devo far spawn a tutti i nemici Eh è messa di sede 8-2 E qua Non ci sta portando da nessuna parte Questa è un po' Non ci sta portando da nessuna parte No 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 Voglio Vabbè Dammi lui Posto Ah perché quello grande Quando lo sconfiggi Diventano quelli piccoli Se separa in più piccoli No Non l'avevo capito Ok Adesso lo possiamo prendere lui O ancora Fa il I giri a caso Ma se io Là ci sono andato No Dove mi porti qua Dove siamo Prendilo No Qua non ci siamo No Non mi sembra ci sia nulla Eh è detto ciò Io che faccio Ci sono altri nemici Da far spawn Ma sono respawnati Questi in altra volta Fra Mortacci mi ha lisciato eh Dovrei usare Della di più La magia Io però Non la uso molto Però questo Non si è diviso Quindi boh Se alcuni Sì alcuni Non B Dov'è il Non c'è più Ora non c'è più Avevo Tornandietro ancora Non so Eccolo No Vabbè aspetta io lo provo Prende comunque Non posso Aiò Ahia Adesso Dov'è? Scusa, era passato qua? Eccolo Lo vedo più calmo però Ecco Non credo proprio Oh E invece si Hai capito Ovviamente se vado là ritorno indietro No ma credo che mi abbia portato Ah no no no, qua non ce l'ho mai stato Cioè si può entrare? Sì Oh no Non era lui mi sa Però voglio il... Niente, è impossibile prendere il baule Ah no, mi devo solo allontanare Va bene Oh La forma mi ricorda qualcosa Cristallo regale L'avevo visto te capo Allora, secondo me intende Quello lì Eh? Ma che cos'è? Se solo potessi arrivarci Ma che cosa? Addietro Come faccio arrivarci? Come faccio? Vabbè, comunque stavo dicendo Secondo me è quello che avevo visto A casa di Ariel Che è uno? Forse con una magia Ah no Eh, allora ok Immaginavo Sicuramente tocca farlo distruggere a lui Porco Giuda Attacca qua, Gabbo Ah, mi sape no Porco Giuda Questo mena, eh Chissà che ci dà sconfiggendolo Qualcosa ti dovrà dar Oddio Mamma mia che rischio Oh È morto Ragazzi non muore Non può morire Aio Brutto pezzo di merda Io voglio andare qui Aio No, no, no Aio Aio Un pezzo di merda Levati Aspetta Diretta abbiamo capito Che lui non può morire Dai Vabbè dai Vabbè dai Vaffanculo Dai Non è arrivato qua Che è? Un misterioso bagliore Proviamo a darle un colpo Non lo so che cos'era Va bene così Si potrà aprire? Sì Come l'ha? Oli arco Che roba è? Ah ok Un minerale Senti proviamo a rientrare qui Che secondo me Quella roba Quel cristallo Che ho trovato Serve qua Che ti ha fatto vedere Chi ha rettondo Sto simbolo Eh infatti Oh oh Cioè io mi sono fatto tutto sto culo E questa l'ha distrutto Bene Ok Hmm come il giro, e lo so che non lo so, non lo so non lo so è vero che lo so, ma... hai giocato questo progetto il giro, che si tratta la paura e ha brinca la ruota non si è vero mi grazie per salvare la mia figa Ma, non c'è nessuno nel mio occhio per te o per la tua chiesa Ma, 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 i pochi ragazzi sfruttano un tipo di sorriso Giudice Cosa affidvent, se n'�pura c'è qualcosa che noi possiamo fare Cosa, potrà essere di un'altra ruota Sì, potrà essere di un'altra ruota Chi ti parla? Signore, t'è sicuramente ti aiutare Cosa potrà tutto il tuo drecko arrivare Fertina mi può aiere Ma eviterei di andarci. Ora, ora, amore, amore. Tu anche hai qualcosa di speciale. Ora, ascolti. Un po' inguaiati. Usciamo. Un puttere salvataggio. No, basta. Basta, lasciatemi stare. Proviamo a andare dove stava lei. Ovviamente non c'è più. Proviamo ad andare al palazzo. L'unica cosa che mi viene in mente. Anche se quello c'è a bandito. E fino a lì c'eravamo arrivati. Ah, perché lui gira senza il tridente? Non mi sembra un'ottima... Mossa. No, no, io schifo, capo. Non ne voglio sapere niente. Già l'ho ammazzato, non me la devi fare. Come hai fatto affidata? Evidentemente no. Ma l'hai ingannata, in realtà. Sperdai, tocca farli fuori, ma vai. Ah, dici che non è qua? Allora che sia da casa sua, veramente. Allora che sia da casa sua, l'ho ammazzato. Allora, è se da. Poi. Il tridente. Dobbiamo... ...dici che fleggera, l'ho è. Voi, vabbiamo. Aspetta, io andavo con te. Mi padre è morto e è tutto il mio malo. Ho dovuto stoprire Ursula. No, tu sei una guardia Ah, di nuovo? Vabbè, è come al solito Ursula trae il suo potere dal calderone Per sconfiggere Ursula colpisci il calderone con la magia Ok Dove stanno? Aspetta, aspetta Hai altro da dirmi? Mi sembra che Ursula provenga dalla direzione del relitto Ho sentito dire che c'è qualcosa sulla parete dietro il relitto Ok, d'accordo al relitto, quindi Ma intanto salvo Sì, sì, ce l'abbiamo il tempo per farlo No, stavo a pensare come ci si andava dal relitto tramite Il delfino A meno che non mi ci fa ritornare a me da so Ma questo? Sfondolo, sfondolo Beh, non mi vado e falli No, io stavo a pensare che secondo me Ci si può andare da... Porco giù Da qui ci si può andare Eh sì La parete è dietro al relitto, dici? Cioè, non è qua No Non è il momento Che cosa intende, sincero? Non... Ma che sto capendo, eh? Quale sarebbe la parete dietro al relitto? Questa è davanti Oh, ma quello? Questa è dietro Questa avevamo schifato prima Ma mamma non me lo fa prima Perché c'è sto coglione Ah, io non so se questo va affatto Il caso secondo me non va affatto fuori Se prima non è morto Perché dovrebbe morire adesso No, vedi Porco giù Da che stecca che mi ha dato No Secondo me gli dobbiamo far dare quella crepa qui No, non volevo fare questa cosa Capo Dalla qua No Però vedi che la sta dando molto più spesso adesso Fa capocciata rispetto a prima Ma la stai dando dalla parte sbagliata Ma sei stupido Dove va? Non si riapprescita Non lo so, eh Però sto fatto che non può morire Sì, magari se non gli vado addosso Oh 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 Vedi, non Non ce l'ha fatto No, vedi, sbatte proprio Sì, ma il punto è che non c'è altro Che devo fare Non Ah, oddio Qua sotto Eh, non C'è Ah, no Si vedeva anche avolo Infatti dice A me pareva strano Sì, ma resta il fatto che O bisogna farlo entrare qui E fa sfondare tutto qui Cosa che non so se è fattibile Dove sta Eccolo Cavolo Tutto a posto No, non No, vedi Oddio, lui Perché lo attacca, no? Creda, non sto capendo Boh Non Non lo so Ah, ma sconfiggio Ah, sono morto io A posto Dove siamo? Ah, siamo qua Boh, proviamo a sconfiggio Non lo so Però prima pure Non Non moriva No, non me convince Non lo so Boh Molto strana Questa cosa Cioè Lo stiamo pistando Perché non muore Alla fine Che dovrà stare Un motivo Perché non muore No Ah, mo è morto Ma prima non era morto Ma Non l'ho capito Questa cosa Sinceramente E quindi Scusami Io questa parete Come cavolo Cioè Sì La parete Il relitto Lì come Non lo levo Ah Serve aiuto Ti faccio vedere Come si fa Ok Toccava a lui Per farlo Va bene E quindi Abbassa lì E lì È dove Probabilmente Ci porterà Da Ursula Eh sì Ora Sinistra o Destra Un attimo Se vado a destra Invece È chiuso No Ah C'è sopra Due conchiglioni Dove uno salvi E uno fa C'è il mega Etere Ma io ho mezzo Che salverei E Continuiamo Il prossimo episodio Mezzo Che vedirei Così A 13 ore Precise Di gioco Sì Facciamo così Dai Signori Ragazzuoli Vi ringrazio Per aver Visto Il video E Ci becchiamo Al prossimo episodio Dove Probabilmente Faremo la boss fight Con Ursula Immagino A meno che Non cambia Qualche Carta In tavola Detto ciò Vi mando un bacione E ci becchiamo Al prossimo episodio É Ciao Al prossimo episodio